buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv sono le sette e un minuto oggi è lunedì 24 giugno 2024 24 giugno è una ricorrenza particolare perché oggi si festeggia un grande un grande santo lo vediamo subito nel manacco del giorno eccolo qua nella grafica e san giovanni battista molti molti si chiamano giovanni e oggi è il loro onomastico quindi facciamo a tutti i nostri auguri san giovanni giovanni cugino di gesù figlio di elisabetta e zaccaria fu colui che annunciò la presenza del messia e battezzò gesù quanti quadri quanti dipinti sono stati realizzati in questo momento particolare un momento in cui si rivela la divinità di gesù giovanni battezza gesù si aprono i cieli e dice questo è il mio figlio di letto remita nel deserto si cibava di cavallette si vestiva di pelle di cammello denunciò le infamie di re erode antipa re erode antipa era il figlio di erode il grande quel re che regnava in palestina al tempo della nascita di gesù e che fu poi l'autore della strage degli innocenti re erode antipa che era già sposato aveva sposato poi aveva ripudiato aveva sposato la moglie del fratello che era filippo erode e la moglie era erodiade la quale aveva una figlia salome e salome fu veramente una figura importante nella vita del battista in quanto ne decretò la fine infatti chiese la testa al padre dopo averlo seduto con una danza che appunto la bibbia riporta giovanni battista fu decollato fu decapitato e questo momento è ben ritratto da un quadro delle caravaggio che si trova a malta e che veramente dimostra in una in una ombra e in una luce veramente eccezionali solo quelle che sapeva ritrarre caravaggio in un quadro con pochissimi personaggi ma con dei momenti molto molto significativi il momento della morte della decollazione del battista e due carcerieri che spiano in un pertugio insomma veramente un dramma che viene realizzato con grande arte dal maestro comunque oggi è la festa di san giovanni ho detto tutto e ora passiamo alle previsioni del tempo oggi il tempo si è guastato rispetto alla prossima settimana alla scorsa settimana e quindi vediamo che su tutta la regione mal che ci sono nubi di passaggio sono instabili irregolari piogge temporali più frequenti però sulla nostra provincia e nei settori interni appenninici c'è un deciso calo termico fa un pochino più fresco 19 la minima 25 la massima quando nei giorni scorsi siamo arrivati a punte di 35 36 gradi i venti sulle coste spirano da nord ovest nell'entroterra da ovest il mare leggermente mosso il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.53 ed ora passiamo ad aprire i giornali e vediamo le notizie pubblicate oggi dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano abbiamo così evidenziato sabato scorso come il sindaco il nuovo sindaco Luca Serfilippi aveva annunciato la composizione di giunta ma i suoi compiti non sono ancora finiti per quanto riguarda l'organizzazione dell'amministrazione comunale perché il primo luglio si convocherà la prima seduta del consiglio comunale e qui ci sono degli avvicendamenti perché i consiglieri eletti in consiglio poi nominati assessori lasceranno il posto ad altri primi di non eletti che subentreranno al loro posto e allora vediamo quali sono questi avvicendamenti cominciamo nell'evidenziare che Fratelli d'Italia che ha conquistato 5 seggi avrebbe dovuto contare su Loretta Manocchi, Lucia Tarsi, Davide Del Vecchio, Francesco Cavalieri e Andrea Montalbini ebbene due assessori lasceranno il posto nel consiglio comunale sono Manocchi e la Tarsi e che dovrebbero permettere di entrare a Mosè Gaiardi e a Maria Flora Gian Marioli La Lega invece ha ottenuto quattro consiglieri Alberto Santorelli, Gianluca Ilari, Mario Alberto Rinaldi e Davide Pieretti al posto di Santorelli e Ilari dovrebbero entrare Camilla Ravagli e Luca Antognoni e poi vediamo ancora altri partiti per esempio quattro seggi che ha conquistato la lista Fano Cambia Passo rappresentata dai consiglieri Alessio Curzi, Marco Bavosi, Luciano Cecchini e Giuseppe Costa essendo stato nominato assessore Curzi lascia il posto libero al subentrante Luigi Scopelliti è stato già consigliere comunale Scopelliti però quella volta era nel gruppo consigliare della Lega i civici Fano hanno eletto, dei civici Fano è stata eletta assessore Loredana Manghernino che lascia il posto a Cristian Forti non dovrebbero succedere movimenti all'interno di Forza Italia in quanto l'assessore Mauro Talamelli risulta terzo classificato e quindi rimanendo consigliere Rinaldi non ci dovrebbero essere movimenti ebbene è ancora tutto quindi da decidere soprattutto è da decidere quali saranno i compiti assegnati agli esponenti politici della coalizione di centrodestra per quanto riguarda le presidenze oppure le presenze nei consigli di amministrazione delle società controllate dal comune di Fano abbiamo l'ASP, abbiamo l'ASET, abbiamo poi l'AS, la Fano Fortuna insomma la Fondazione Teatro della Fortuna c'è ancora da distribuire parecchie cariche e lì sono pronti gli esponenti politici del centrodestra ad occupare questi nuovi ruoli c'è un rimpianto però oggi sui giornali c'è un rimpianto che viene evidenziato dall'ex assessore Samuele Mascarini che è stato assessore dei servizi educativi un settore molto molto importante che non solo interessa l'educazione dei giovani ma interessa anche molte molte famiglie le quali soprattutto per ragioni di lavoro contano molto sull'assistenza scolastica ebbene che cosa recrimina Samuele Mascarini dice che i servizi educativi per la destra non sono mai stati oggetto di dibattito infatti nella campagna elettorale scassamente sono venuti alla luce e soprattutto sono venuti scassamente alla luce anche dopo che il centrodestra ha vinto le elezioni secondo Mascarini questo dimostra un po' come questo settore non è stato tenuto in debito conto dalla nuova amministrazione comunale Mascarini però ricorda che i numeri del comparto sono molto significativi un settore nel quale sono impegnate quasi 250 figure professionali sono dipendenti del comune e tutto interessa 5.000 bambini e 5.000 rispettive famiglie insomma è un settore importante che deve essere curato con grande grande attenzione e questo settore è stato affidato dal sindaco alla nuova assessore Manghernino che fa parte della forza politica della nuova forza politica Fano Cambia Passo vediamo la seconda apertura del Corriere Adriatico è il ritorno in Africa di Maria Teresa Fossati moglie di Nannini il grande operatore scomparso fondatore dell'Africa Chiama che ha comportato un grande sforzo di aiuto ai paesi che hanno bisogno ai paesi più poveri del continente nero ebbene Maria Teresa Fossati ritorna in Africa ritorna in Africa soprattutto per dare un impulso ancora più forte dell'aiuto che l'associazione sta dando a diverse realtà che sono state istituite e fondate in questi paesi come per esempio la scuola per oltre 1.400 studenti a Lusaka il programma della riflessione scolastica per oltre 4.500 studenti a Eringa il centro di maternità di Lusaka solo per menzionare alcune delle realizzazioni che l'Africa Chiama ha realizzato in questi paesi quindi un nuovo impulso dell'associazione l'Africa Chiama che è sempre molto molto attiva nata a Fano ma si è stesa poi a livello nazionale opera anche in Italia ma ovviamente il suo interesse primario è dedicato all'Africa all'Africa più povera all'Africa malata all'Africa che ha bisogno più di assistenza la fondopagina della seconda pagina delle Corriere è dedicata ad un lutto ad un lutto un 54enne si tratta di Fernando Nenci che è stato vittima di un incidente mentre era in sella alla sua moto lungo la Flaminia un incidente che si è verificato a San Lazzaro di Fossombrone il paese di Petriano di cui è originario questo centauro è di nuovo in lutto per questo tragico incidente Fernando lascia la moglie e due splendide figlie gemelle siamo tutti frastornati e ci uniamo al lutto familiare incluso il padre del fratello con cui Fernando da sempre condivideva il lavoro ha dichiarato l'ex sindaco di Petriano Davide Fabrizioli dunque un nuovo incidente un nuovo lutto per quanto riguarda la circolazione giriamo la pagina passiamo al Val Cesano vediamo San Costanzo a San Costanzo è stata fissata la prima seduta del Consiglio Comunale che è stato convocato per giovedì prossimo alle 18.45 nella sala consigliare Filippo Montesi ebbene è il primo consiglio che vedrà all'ordine del giorno il giuramento del primo cittadino Carbone Domenico Carbone che ha vinto le elezioni e poi ancora ci saranno tutti gli addempimenti che perfezioneranno questa civica assise e poi anche qualche anticipazione per quanto riguarda il programma la serie di iniziative e di attività che farà la nuova giunta a Mondavio a Mondavio si recupera la caccia al cinghiale una delle rivocazioni storiche forse più belle più permeanti per quanto riguarda l'atmosfera che viene creata in questo antico castello che anno scorso non ha avuto luogo e per fortuna quest'anno invece viene riproposta caccia al cinghiale la rivocazione è certezza dopo l'annullamento dell'anno passato torna a cavallo del Ferragosto è la grande novità questo del programma di eventi estivi promosso dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Proloco la rievocazione storica una delle più antiche che verrà realizzata il 13, 14, 15 agosto nel castello con questa meravigliosa mole che sovrasta il paesaggio di Mondavio e qua c'è tutto il programma ovviamente è di rigore l'abito rinascimentale perché insomma anche l'abito che poi influisce anche nella suggestione della rievocazione storica uno si sente ancora più compenetrato di fronte a tante manifestazioni ci saranno danze banchetti e gare di abilità parate e se lui stesso indossa l'abito rinascimentale passiamo a Senigallia passiamo a Senigallia dove un grande successo ha riscosso il RDS Fest il grande finale veramente da record BBK in fiamma piazza Garibaldi pensate ci sono calcolate 7.000 presenze ed altre 2.000 persone non sono potute entrare nella piazza perché il limite massimo è stato raggiunto e quindi altre 2.000 persone hanno seguito la manifestazione nelle vie limitrofe alla piazza in tutto questa iniziativa ha coinvolto 16.000 presenze è veramente stato un grande successo ha commentato il sindaco Massimo Olivetti tanta musica tanto divertimento e soprattutto una piazza piena e composta il binomio RDS Senigallia che è stato fortemente voluto nel 2022 ogni anno migliora e conquista sempre più successo voglio poi farvi notare questo piccolo articolo di spalla che ci parla di Cupra Montana Cupra Montana è un bellissimo centro famoso anche per la sua attività agricola in modo particolare per la festa del vino Cupra Montana ebbene qui si è celebrato un matrimonio secondo l'uso dell'epoca le spose sono arrivate a bordo di un biroccio trainato da buoi o da mucche adesso non so comunque dal bestiame incornato a festa e quindi veramente è stata una cosa originale sono così hanno incoronato il loro sogno d'amore Andrea e Claudia Ceccarelli fratello e sorella rispettivamente con Mason e Gianluca impreziositi dal battesimo del piccolo Luis addirittura la cerimonia immessa nella tradizione di un tempo ha rievocato i matrimoni dei nostri nonni ebbene anche questo è veramente molto molto bello e simpatico passiamo alla pagina di Pesaro dove è sorto un problema purtroppo causato è sorto è tornato alla ribalta diciamo meglio un problema perché anche in passato c'è stato anzi anche in un recente passato è sorto a causa di un decesso un 44enne è stato così è morto a causa probabilmente di una overdose e tutto questo avviene nel Mirafiore in questo grande parco di molti ettari che purtroppo è frequentato da tanti tanti spacciatori e nonostante la costante presenza delle forze dell'ordine del pubblico della gente lo spazio continua imperterrito a così fomentare il consumo della droga spaccio al Mirafiore incontrerò il prefetto dice il nuovo sindaco Andrea Biancani il problema è di complesso e di difficile risoluzione Biancani comunque vuole confrontarsi con le forze dell'ordine dopo la morte di questo 44enne e Boresta di Fratelli d'Italia incalza il comune sono anni che denunciamo l'emergenza tutti la denunciano il problema è riuscire però a sconfiggere questo racket che è veramente radicato ed è veramente duro da combattere il sindaco Andrea Biancani prende di petto dunque il caso Miralfiori sicurezza e spaccio al parco problema complesso che darà un incontro al prefetto ma anche l'opposizione drizza le antenne quindi richiede ancora di più controlli ancora di più presenze di forze dell'ordine domani sarà effettuata l'autopsia per accertare le cause del decesso della vittima ma nel frattempo si torna a dibattere sulla sicurezza dell'area verde cittadina e speriamo che anche se tra poco finirà il clamore di questo nuovo decesso di questo lutto ancora che ha colpito la comunità tutto non passi nel dimenticatoio e si ritorni poi a sopportare quello che avviene giorno dopo giorno al parco combatto la droga portandovi nella zona rossa giardini di prevection organizza un'iniziativa di sensibilizzazione e di queste non ce ne sono mai abbastanza scooter in sosta nei posti per i disabili al mare fioccano multe e proteste la situazione dei parcheggi nella zona di Levante sta diventando sempre più insostenibile e quando non c'è un minimo posto uno che va con la moto cerca di posizionarla dove può e purtroppo lo fa anche nel posto dei disabili privando questi ultimi di una piccola preferenza che viene loro riservata Montefelcino Montefelcino avrà il ruolo di capitale nazionale della cultura associato ovviamente a quella di Pesaro per sette giorni fino alla fine del mese di giugno il clou di tutte le iniziative che si svolgono in questo bellissimo centro prossimo alla valle del Metauro sarà la battaglia la battaglia del Metauro la battaglia che decise le sorti della seconda guerra punica ben 200 figuranti sono pronti a fare rivivere questo scontro memorabile questo scontro epico che salvò possiamo dire Roma dalla furia dell'esercito cartaginese Annibale era giù in Puglia se il fratello fosse riuscito ad unirsi con il suo esercito a quello di Annibale veramente Roma sarebbe stata sconfitta invece con la battaglia del Metauro i romani hanno prevalso e Roma è stata salva 200 figuranti sono pronti a far rivivere sabato 29 e domenica 30 giugno il momento in cui i romani sconfissero l'esercito punico impedendo ad Asdrubale di portare rinforzi al fratello Annibale la battaglia del Metauro ha puntualizzato Corrado Re che è il coordinatore della rievocazione rivive grazie a oltre 25 associazioni professionistiche di rievocazione storica provenienti da tutta Europa per un'esperienza immersiva che permetteranno nella realtà storica del periodo a tante persone di rivivere in una posizione preeminente si vedrà un po' tutto lo spettacolo della battaglia non si sa poi dove la battaglia è veramente avvenuta se nei pressi della foce oppure un pochino più in alto verso la sorgente del fiume Metauro finalmente si gioca al maxibasket caccia i selvi con le vecchie glorie ebbene il torneo di basket dei giocatori un pochino più attempati ha riunito tante tante persone a Pesaro e quindi anche le presenze turistiche ne hanno giovato moltissimo e vediamo quello che sta accadendo ad Urbino ieri con il ballottaggio beh comunque un'affluenza piuttosto importante è arrivata al 56,78% e il presidente Londèi fa il bilanciere e chiunque si affermerà sarà la vittoria di Urbino capoluogo e qui vediamo i due contendenti Maurizio Gambini e Federico Scaramucci che sono al momento del voto al momento in cui depositano la scheda nell'urna alle urne di Urbino capoluogo parte a stento tutta la macchina delle votazioni poi le 23 ieri sera c'è stato il record 56,78% vediamo ora le anticipazioni che il resto del Carlino fa nella prima pagina per quanto riguarda le cinque province marchigiane vediamo come per quanto riguarda Pesaro punta la sua attenzione sulle presenze per il basket dove 40 giocatori e famiglie tifosi giunti a Pesaro da tutta Europa e poi ancora l'allarme al Mirafiore Biancani va dal prefetto e ancora per quanto riguarda il ballottaggio testa testa Urbino l'affluenza è buona vediamo Ancona a Ancona c'è stato un incendio che ha messo a dura prova i vigili del fuoco fiamme alla baraccola c'è il rischio di ossina l'allergologo Bonifazi consulente del comune dice lascia un incarico ignorate misure fondamentali per limitare i danni alla salute e questa veramente è una denuncia di grave di una gravità veramente estrema due stranieri arrivate in treno una doppia rapina in centro la polizia li prende subito uno addirittura è minorenne e poi si parla di turismo la baia del VIP quella dei Porto Novo la sorpresa a cena spunta Valentino Rossi e quando Valentino Rossi appare fa sempre notizia fa sempre sensazione insomma il suo mito certo non ha avuto un minimo di cedimento anche se Valentino non corre più nelle piste che l'ha visto un grande un grande campione passiamo ad Ascoli e a Fermo a Colli è stata arrestata un'anziana perché aveva ricattato la parrucchiera carte scottanti all'appuntamento però trova i carabinieri la sanità è nel Misino nel sì nel Mirino all'ospedale di Amandola c'è una scintilla tra la Lega e il Partito Democratico e poi ancora la cronaca ladri scatenati SOS in Valtenna raffica di furti nelle abitazioni e vediamo anche la provincia di Macerata musicultura trionfanna Castiglia aiuto ai palestinesi ha detto per quanto riguarda il festival della canzone che si svolge a Macerata stessa tra gualdo e penna invece lite in strada spunta un coltello due sono stati gli identificati e poi recanati alle urne qui c'è stato il 31,1% un pochino meno di Urbino che abbiamo visto che ha superato il 50 spoglio dopo le 15 di oggi poi il nuovo sindaco e beh il nuovo sindaco verrà proclamato in tutti i centri dove si sono svolti e si stanno svolgendo i ballottaggi e questo per il momento è tutto chiudiamo i giornali vi do come sempre appuntamento domani alle 7 intanto vi auguro una buona giornata e poi noi ci risentiamo grazie per l'ascolto arrivederci